Buongiorno Regione, sono le 7.32, anche oggi la nostra trasmissione è interamente dedicata al terremoto. Oggi tra l'altro, e lo ringraziamo per questo, è il nostro ospite in studio, il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. Presidente, dopo la devastante scossa di domenica mattina, siamo in assoluta emergenza sul territorio di gran parte della nostra regione. Dopo il 24 agosto, quando ci furono 51 vittime, stavolta nessuna vittima, la protezione civile era già presente e questo ha aiutato in questa situazione. Per le Marche mai giorni così difficili, la forza di reagire non manca. Quali sono i dati ufficiali ad oggi? I dati ufficiali sono dati molto pesanti per le Marche, tre province coinvolte, più una parte della provincia d'Ancona, oltre 150 comuni direttamente coinvolte, oltre 100 con problemi gravi. Abbiamo stimato fra le persone assistite e quelle che hanno dormito in macchina, di cui abbiamo potuto cercare di dare una contesta, circa 40.000 marchigiani in questo momento vivono da sfollati, vivono fuori da loro case, un po' per paura certamente, un po' perché hanno le case danneggiate, ma veramente un quadro così ampio che c'era da aspettarselo, forse con un sisma che è stato un sisma storico, questo 6.5, ma con un impatto e un bisogno da soddisfare enormi. Devo dire una grande reazione, i sindaci in prima linea con tanto coraggio, molti volontari, forze dell'ordine, insomma si è vista tutta la capacità di reazione. Ieri a Porto Sant'Elpidio, la visita del Presidente nazionale dell'Anci, proprio lui ha fatto l'appello ai sindaci, sono loro l'unità delle comunità, comunità che nelle zone rosse dell'Alto Maceratese specialmente, non vogliono lasciare il territorio e quindi la richiesta dei container che stanno arrivando. Sì, stanno arrivando intanto i moduli per i servizi perché nel Maceratese ad esempio 35 comuni non hanno più la sede comunale ed è un punto di riferimento importante nella ricostruzione. A Porto Sant'Elpidio sono transitate 6.000 persone che hanno trovato alloggio negli alberghi della nostra regione. Bisogna dire che questa cosa è importante, anche chi va in albergo non è uno che vuole abbandonare il territorio, anzi in questo momento forse ci sta dando una mano perché permettendo questo tipo di sistemazione alleggerisce il carico diretto sul territorio e permette di andare avanti con tutte le fasi della ricostruzione. Quindi va ringraziato anche chi fa questa scelta perché è una scelta difficile, i marchigiani sono molto attaccati a loro terra ma oggi è una scelta di servizio, è una risposta che ci permette di gestire meglio l'emergenza. Quindi io ringrazio loro come tutti quelli che sono impegnati nella macchina della ricostruzione. Tra l'altro il Consiglio dei Ministri in tempi record ha decretato lo stato di emergenza per le nostre zone, c'è stato già un primo stanziamento però si sente qualche voce, c'è troppa burocrazia ancora nel disbrigo delle pratiche, è così? Noi abbiamo un patrimonio culturale straordinario, nelle Marche diffuso, magari meno conosciuto di luoghi simbolo ma ricchissimo di opere d'arte di grandissima importanza e sono a queste opere d'arte molto legate dai cittadini e ovviamente ci tiene la sovrintendenza. Noi abbiamo stimato circa 5.000 luoghi della cultura colpiti dal sisma. C'è questa tensione, il desiderio di metterli subito in sicurezza. Ieri eravamo in un comune che stava proteggendo un politico straordinario. Bisogna capire che l'arte e la bellezza dall'altra parte ha le sue regole. La capacità che dobbiamo avere in questo momento è essere molto speditivi, molto rapidi nel mettere in sicurezza questo patrimonio e rispettarlo. Ho visto un salto di qualità nei rapporti con il Ministero dei Beni Culturali, con le sovrintendenze delle Marche che stanno collaborando tantissimo e hanno dato delle linee guida che ci permettono di agire con più rapidità. Governatore, oggi è attesa la visita del Presidente della Repubblica, Mattarella, che sarà a Camerino e a Norcia. Il programma della giornata? Il programma sarà a Camerino, città simbolo da tanti punti di vista, una città che ha un'università la seconda più antica d'Italia, che fa delle università e degli studenti la sua vita e che quindi ha una necessità di ripartenza molto particolare. Noi faremo di tutto perché l'università possa ripartire rapidamente, perché possa restare sul posto, perché le attività che vivono con l'università possano continuare a vivere e perché gli studenti possano riprendere i corsi. La presenza di Mattarella è una presenza simbolica, importante, perché la ricostruzione, dico sempre, è fatta di tre cose. Le case da ricostruire, un'economia da rilanciare, ma uno spirito da tenere alto. L'umanità, che è il Presidente Mattarella, che sa trasmettere, l'ho visto ad Ascoli nella sua visita precedente, è un altro fattore molto importante per ripartire. Dunque nel pomeriggio il Presidente Mattarella sarà nell'Alto Maceratese e tra l'altro è atteso anche in tarda mattinata Vasco Errani nel Fermano. Noi ringraziamo il Presidente Ceriscioli per essere stato con noi questa mattina. Le auguriamo Presidente buon lavoro.